Del, vai in alto e coprici. Oh, dai! Sono sciame, ma niente snatchers! Sono dei cacciatori lassù, falli fuori! Oh, aspetta! Oh, aspetta! Oh, aspetta! Oh, aspetta! Oh, aspetta! Oh, aspetta! Oh! Ehi, mi serve una mano! I droni sono barricati! Forza, aiutiamolo! Vieni qui, aiutami! Rianimami! Ci serve una mano qui! Vado! Rianimami! 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 Ok, via libera. Ok, via libera. Ah, che cazzo! Che lavoro di squadra! Sì, ma ancora non sappiamo dove cazzo stiamo andando. Sono dettagli irrilevanti. Sono sempre utili. Ehi, altra barriera di muco. Nelle favore ci sono molliche di pane. Per noi, barriere di muco. Finalmente abbiamo trovato la miniera. E altri snatcher. Si dirigono allo suo interno. E adesso come? Là sotto. C'è quel vecchio trasporto minerale. Sembra conduca all'inferno. Perfetto. Quel trasporto minerali è sicuro. Quando è stato usato? L'ultima volta. 25 anni fa, quando hanno portato giù i corpi. Perché le locuste sono seppellite in una vecchia miniera? Non bruciavano i cadaveri per colpa della cristallizzazione. Seppellirli era l'unico modo. Sì, ma le locuste vengono dal sottosuolo. Nessuno ha detto che fosse una buona soluzione. Guardate cosa ho trovato. Guardate cosa ho trovato. La banchina è più avanti. Sciame! Sembri sorpreso! Sciame! Sciame sotto terra! Va per aprirsi un nido! Atterra! Ti penso io! Mi serve aiuto! Salva bene! Arrivo! E' inzappato! Perdo troppo sangue! Sciame! Mi servito! Le sto strazzando! Mi serve aiuto! Sciame! Hai visto? Amato! Amato! Mi serve aiuto! Mi serve aiuto! Mi servirà! Mi serve aiuto! Queste le prendo. La paccina è più avanti. Sciame! Sembri sorpreso! Ottimo. Munizioni. Dito di drone! Nessun altro? Dito di drone è morto! Sì! Sì, definite! Sparsovo! Adesso vediamo se il trasporto minerali funziona ancora. Saliamo su quelle scale. Queste le prendo. Forza, non perdiamo altro tempo. Ok, che c'è? JD, non sappiamo che c'è là sotto. Nemmeno sappiamo cosa siano queste cose. Se devo entrare in un mare di merda, voglio almeno sapere quanto è profondo. Guarda, Del, se hai paura... Non venirmi a parlare di paura! Ora non so nemmeno in che tipo di mare nuotiamo. Quando volevi lasciare i COG, ho detto qualcosa. Ho detto qualcosa! Non l'hai fatto. Perché mi fidavo di te. E adesso devi fidarti di me. Mio padre è ancora vivo e sta là sotto. Ok. E tu? Beh, siamo arrivati fino a qui. Non possiamo fermarci ora. Allora, Del, funzionerà? Forse, voglio dire, la vecchia tecnologia COG era fatta per durare, quindi dovrebbe avviarsi. Bene, allora troviamo la stazione di controllo e facciamolo partire. Come se? Per asciamolo partire poi? Cheту? Fiore di carne? Solo è forte. Per asciamolo partire ma canale c'è una vic Fastenagia? V度erà il motore e facciamolo. Anica? Grazie a tutti Grazie a tutti